E' un evento che parla di formazione e soprattutto di impresa, naturalmente fatto in Confindustria Ha un valore particolare perché per l'impresa la formazione è la prima possibilità che si ha per crescere e per innovarsi Però deve essere una formazione vera Quello che abbiamo lamentato da sempre è che la formazione è stata una formazione che è servita soltanto a ingrassare purtroppo molto spesso le sacchie della politica E noi invece abbiamo sempre richiesto una formazione che venisse fatta all'interno delle aziende Oggi ci confrontiamo un po' su questo, ci confrontiamo sulla possibilità finalmente di mettere al centro del mondo della formazione L'impresa in quanto percettore poi di questi futuri lavoratori L'unico centro di formazione didattico può essere soltanto l'università Perciò su questo l'università già da anni è un partner di Confindustria, è un partner delle imprese Deve fare un certo tipo di formazione che è quello naturalmente di ordine didattico Anche una formazione, se è il caso, che abbia più ampio raggio, vuol dire anche una formazione umanistica Che possa servire a introdurre i lavoratori nel mondo variegato del lavoro Però poi quella che è la formazione specifica, professionale, va fatta all'interno delle aziende Capendo prima quali sono naturalmente i fabbisogni delle aziende Al giovane manca soprattutto la parte non didattica, al giovane manca la manualità Noi prendiamo sempre l'università tecnica che c'è in Germania Dove ai giovani architetti e ai giovani ingegneri viene fatto prima un periodo di apprendistato materiale All'interno delle aziende dove conoscono, addirittura conoscono pure le materie prime Solo attraverso questo poi si possono avere le persone realmente formate Non tutto naturalmente, anzi molte cose che fa l'università sono ottime Anche l'università di Palermo e anche l'università con la quale ci incontriamo oggi Quello che bisogna riuscire a far capire è che bisogna prima capire quali sono i fabbisogni necessari I fabbisogni formativi, dei quali hanno bisogno le imprese E comunque anche l'impresa Stato o l'impresa Regione Perché noi ci troviamo molto spesso impiegati pubblici che non hanno un'adeguata formazione Per poi poter fare i burocrati come si deve Ci vorrebbe un'università anche per i nuovi impiegati regionali o statali Andare fuori dovrebbe essere una scelta più che una imposizione Questo in una società democratica che funziona dovrebbe accadere Noi dobbiamo creare le condizioni affinché chi decide di restare Lo faccia con la possibilità di concretizzare un sogno Perché riuscire a trovare un lavoro coerente con le proprie aspettative è un sogno E una società democratica deve consentire e fare in modo che questi sogni vengano realizzati Sostanzialmente noi non siamo per criminalizzarlo di per se stesso Nel senso che io questa idea che la fuga dei cervelli di per se stesso è un fatto negativo La contrasto Ripeto, una cosa lo si fa per scelta Altra cosa lo si fa perché non ci sono le opportunità nel proprio paese E noi dobbiamo costruire le opportunità per stare qui Poi se uno liberamente sceglie di andare a offrire la propria professionalità La propria intelligenza altrove ben venga Questo paese continua a investire troppo poco sulla ricerca E la recente discussione sui ricercatori Un po' la guerra fra gli ordinari e i ricercatori Ne è l'emblema Al tempo stesso dobbiamo potenziare il più possibile le risorse economiche Nell'ambito della formazione Devo dire che questo governo lo ha fatto L'investimento di 3 miliardi di euro in più sulla scuola è un investimento nell'ambito della formazione Credo che non ci sia mai stato governo che abbia fatto un investimento così forte nell'ambito della formazione Si tratta ora di concretizzarlo praticando la buona scuola Praticando un sostegno dell'università e della ricerca Questo è quello che stiamo mettendo in campo già da questa legge di stabilità Il 15 gennaio presenteremo il decreto, il provvedimento che riguarda l'attuazione della buona scuola E poi si parte Grazie a tutti Grazie a tutti